Quali buone notizie per la Romagna da questo provvedimento? Le notizie sono buone per quell'area colpita a fine maggio, il primo di giugno, l'area del Faentino colpita dalla bomba d'acqua dove praticamente sono state spazzate via case, terreni, aziende. All'interno del provvedimento volevamo che ci fossero subito e immediatamente lo stanziamento, ma questo di soldi per il risarcimento dei danni. Questo non è stato possibile perché la Regione Emilia-Romagna ancora non aveva emanato il decreto di stato di calamità. Quindi abbiamo dovuto correre ai ripari in maniera diversa facendo un ordine del giorno con un impegno di spesa che permette in maniera prioritaria, quindi è la priorità nell'accedere a questi fondi da parte del Governo nel momento in cui la Regione determinerà lo stato di calamità e determinerà la quantificazione dei danni. Per poter far accedere a queste persone al fondo unico delle alluvioni, che al momento è finanziato per 110 milioni, ne sono stati utilizzati 75 e con tutti i danni che sappiamo esserci in giro non sarebbero stati sufficienti. Siccome la parte di Faenza di Brisighella è probabilmente quella colpita più pesantemente, abbiamo chiesto che venisse sostanzialmente messa in cima alla lista. Il Governo ci ha dato l'ok e adesso attendiamo solo che la Regione, cioè Vasco e Rani, firmi il decreto di stato di calamità naturale.